Cristina la prima cosa merita almeno di vedere la sua bambina e poi per chi la conosce può le dire che è una ragazza solare, una ragazza brava, non perché sono suo marito ma chiunque la conosce può le dare ragione, non si merita quello che sta succedendo ora e secondo noi lei si merita tutte le possibilità del mondo. Era questo l'appello di Gabriele Succi che avevamo raccolto anche ai nostri microfoni, una richiesta d'aiuto per poter trasferire la moglie Cristina in stato vegetativo da cinque mesi in un centro specializzato nel quale possa ricevere le migliori cure e maggiori speranze di guarigione, un appello che in pochi giorni ha scatenato una vera e propria gara di solidarietà contagiosa, in una settimana sono stati già raccolti oltre 130 mila euro. Più siamo anche qualsiasi cosa per la Cristina si può dare una mano, a prescindere uno che dia più o meno, non è quello, per le volte basta anche il pensiero, la preghiera. Cristina, originaria di Monte San Savino, lo scorso luglio alla trentesima settimana di gestazione aveva avuto un prolungato arresto cardiaco, un parto cesareo urgente aveva salvato la vita alla figlia, ma con danni davvero importanti la piccola ha subito seri problemi cerebrali, ha trascorso i primi cinque mesi di vita in ospedale e tra qualche giorno dovrebbe tornare a casa, mentre la mamma da cinque mesi si trova in stato vegetativo in una struttura per la riabilitazione, ma le cure non hanno dato i risultati attesi, da qui la raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe. Se c'è delle strutture più moderne, più avanzate, con più cure specifiche per la Cristina, io voglio fare di tutto per portarla lì, per dargli una possibilità, se esiste per dargli una possibilità. Per farla ritornare, penso che uno spera come prima, ma non sarà facile, però togliergli il meglio possibile cosa si può fare. Per aiutare Cristina e sua figlia Caterina si è mobilitata un'intera provincia e non solo, ad oggi sono infatti 3.700 i donatori, una vera e propria staffetta di solidarietà, a partire dal sindaco di Monte San Savino Margherita Scarpellini per arrivare a Pupo passando per i tifosi amaranto della Curva Sud, che hanno appeso striscioni con su scritto al fianco di Gabriele per Cristina e Caterina.